Eccoci qui, buongiorno e benvenuti alla sesta edizione del New Insurance Main Event, evento di punta della New Insurance TV Week organizzato in esclusiva dalle fonti dedicato ai top player del mondo assicurativo. Oggi per dare il via ai lavori partiamo da una domanda specifica. Quanta differenza può fare un anno? E naturalmente parliamo dell'anno della pandemia. Se pensiamo naturalmente che gli ultimi 12 mesi hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere, di relazionarsi di ciascuno di noi, la risposta a questa domanda è inevitabilmente tanto, anzi aggiungerei tantissimo ancora di più. Infatti la pandemia ha cambiato radicalmente le esigenze di tutti, sia come consumatori, sia come dipendenti o lavoratori. Però direi che per questa giornata, per dare il via proprio a questa giornata, potremmo fare un salto indietro. Lo facciamo di 12 mesi perché è evidente come allo scoppio della pandemia le compagnie assicurative abbiano risposto adottando misure immediate per garantire da una parte la continuità aziendale, aiutare i clienti e le comunità a far fronte proprio alla situazione di emergenza. E rispetto a quel periodo, a 12 mesi fa, tanto è cambiato, tantissimo. Infatti stiamo cominciando a tornare alla normalità, naturalmente graduale, con cautela. E c'è questo concetto che abbiamo imparato a utilizzare, che ancora utilizzeremo, new normal, in cui l'unica costante sembra essere l'incertezza, l'incertezza per tutti noi. Quindi le compagnie assicurative si trovano da un lato sicuramente a dover garantire la solidità del business, ma dall'altro hanno necessariamente bisogno anche di fare qualcos'altro, cioè pianificare i propri investimenti strategici per assicurare non solo la sopravvivenza della loro attività, ma la crescita del business e non solo di domani, ma nel lungo periodo, nel medio e lungo periodo, diciamo così. Quindi dobbiamo in questo momento essere tutti più lungimiranti. Per restare competitive, le assicurazioni dovranno quindi fare una cosa molto importante, dovranno essere capaci di guardare oltre i confini tradizionali del settore assicurativo, quelli che guardavamo fino a un anno fa, e abbracciare di conseguenza nuovi modi di lavorare, di relazionarsi con le persone, di interagire con i clienti e aprirsi a possibilità completamente nuove che la loro attività può offrire, che magari non venivano considerate fino a un anno fa. Questa è solo una piccola premessa, ma credo che sia doverosa, perché è una premessa che ci darà modo nel corso di questa mattinata, di aprire tante parentesi, di approfondire tanti concetti, magari attraverso delle parole chiave e poi di fare un passo avanti e quindi guardare cosa il futuro ci può offrire. Naturalmente lo faremo insieme a tutti i nostri relatori e quindi iniziamo subito con il primo momento della giornata. Buon lavoro a tutti voi!